Celebrata stamattina a Fermo la 71esima giornata nazionale in ricordo delle vittime sul lavoro, promossa da Anmil, dopo la tradizionale messa nella chiesa di Sant'Antonio, la deposizione della corona di alloro alla presenza delle autorità. La ripresa del lavoro è una cosa importantissima, quindi finalmente si torna a lavorare, ma purtroppo si torna a morire, a morire con valori altissimi. I dati di queste ultime settimane ci fanno precipitare quasi negli anni 60. Negli anni 60 erano 11 morti al giorno, la scorsa settimana in 48 ore ne abbiamo avuti 15, quindi sono veramente dei numeri incredibili. È una strage continua, una strage continua e un paese come il nostro non può tollerare che questo accada. Un tema importante è quello della sicurezza del lavoro, che nella regione Marche ha visto la firma di un protocollo che ha consentito a 15 persone di portare avanti la sicurezza sul lavoro e la propria testimonianza. Sono in realtà 15 le persone formate grazie ad un protocollo di intesa che è stato firmato nel dicembre del 2019 grazie all'allora presidente Ceriscioli, ma che è stato poi assolutamente confermato ed abbracciato con grande forza dal presidente Acquaroli, attuale presidente della regione Marche e da tutta quanta la giunta. Con questo protocollo di intesa la regione Marche ha allargito un fondo che ci ha dato la possibilità di creare un corso di formazione per queste 15 persone che avevano come requisito fondamentale, ma non unico, quello di aver subito un infortunio sul lavoro. A fare il proprio racconto dentro la chiesa durante la celebrazione, il presidente dell'Anmille de Fermo, Marcello Luciani, un infortunio nitinere il suo, che ha visto tanti mesi di buio. Allora io dal racconto che ho fatto oggi, dalla mia testimonianza, il finale è un bel finale, ma per almeno 5 mesi io di fronte a me ho visto solo e esclusivamente il buio.